Alla raga, bentornati in questo nuovo video di ProStars Le singole, tanto le vinciamo tutte, raga Mi sto trovando un sacco che ho pocio E a me ce l'ho a grado piccolo Cioè, poco Grado 8 mi pare Perché Prima non ci giocavo e non mi trovavo Ma adesso proprio mi trovo a bomba Non so perché, però è troppo bello Pocio Oh, oh Perché non ci dovevo andare addosso Stop it Don't touch Non sembra come sembra Ho vinto la partita Ho avuto più 7 Eh, sono stato bellissimo Raga, perché Con pocio, quando ce l'hai Di grado Di mer... Noia Fa proprio schifo Scappa Scappa Frate, scappa Posho, scappa Fidati, Posho Non ti fidare mai di... Come si chiama? Scappa Scappa, scappa, scappa Scappa, scappa, scappa Scappa, scappa Amore Scappa Le... Le maginie Le maginie non si tocca E' come si chiama Le maginie Le maginie non si tocca Beh ti fai papà crgungungung no oh buono per me è buono e posso 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 perché spara a me non spara a me non sparare a me oh 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 no no oh esplode scrivi di papà e cu 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 scrivi di papà e guru gung gung esplode 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 scrivi di papà scrivi di papà e cu 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 scrivi di papà eh sono morto sono morto però almeno secondo è buonissimo voglio oh si prendi tutto eccolo ma lo voglio fare su pocio io voglio fare pocio non lo so se farlo su pocio ho le ho leon però leon non è che mi sta crescendo tanto no non lo so non lo so non lo so eh eh esigo i soldi forse per i soldi raga non avrò più soldi io oh Dio eh ne conviene mi sa vai poncio al 7 15 oh Dio oh mio Dio 490 ho speso per pocio 490 ho speso per pocio oh mi piace se a voi vi piace shoppate sì oh 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 ma che piazza di scubiduppa fa Piacere! 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 mado no raga qui ci muoio tantissimi unita aspetta 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 che nita nita posso usare benissimo unito io posso usare in una maniera anomale però raga non potete fermare mai e poi mai il primo con dieci cosi no raga schiatta in tre secondi cioè se vive fino all'ultima seffa vincola malissimo ok non è venuto da noi meglio 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 al centro c'è qualche cesto bruttissimi cesto brum quattro cosi ti gusta quattro cosi ti gusta quattro cosi cinque in realtà cinque cinque non mi fai incazzare sui uomini il canico il canico sono troppo forte ho visto qualcuno di lei però bravo bambino bravo bambalona c***o quantissimo ma è mi schiatta vedi no ma il primo va troppo veloce oh non è giusto oh non è giusto il primo lo devo schiattare malissimo lo devo schiattare oh mi schiatta malissimo non lo voglio potenziare perchè fa schifo cioè in realtà non è buono però non è buono ma perchè non si è levato così ce l'ho al 7 io posso te l'ho al 7 di livello sono troppo forte uno due tre quattro cinque sei uno due tre cinque 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 c***o c***o si quanti sono sono un asato sto cercando un reggetto Noi, noi, noi. ragazzi scusate se non ho parlato ma mi stavo concentrando esplori 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 118 118 e se vince e se vince al 9 no tra un giorno no assedio non ho perduto troppo chissà osare non l'abbandonate mai troppo forte no bravo 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 scappa 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 mamma mia quanto fisco è tanto antissimo mamma mia no il mio amico è morto si si trovo un occhio che mi chiama vai mamma mia mi chiamano mi chiamano oh Gesù non mi chiamano leva allora grazie grazie non c'era bisogno però vabbè PASIO 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 no no non mi inizierà alla gara capì ho un brutto presentimento di queste cose veramente fai veramente fai si scrivi di papà gring gring tru dum 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 sentite tru dum 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 no non lo fa più se vi avvicinatevi faccio il culo ma ma esplodi avvicinati ti esplodi eh te lo dico io esplodi tantissimo guardalo guardalo come scappa è un ladro è un ladro questo è un ladro è un bontino super wow è un viso è un'esplodi esplori esplori manz manz io mi assente anche ora in garage bisschenamente una 400 Rec articles no 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 non démocrate No, curati, 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 ma io mi faccio ammazzare, no raga, ma si è fatta ammazzare, si è fatta ammazzare, ma no, cioè no si è fatta ammazzare, come si dice, ma che cazzo, oh Gesù, Sì, io ne apro una, tanto vinco, posho, 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 mi usci, dove ho posho, calma, posho, mi usci, You, you noob, bene, 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 con il livello più alto, non è bene, non mi direi che è posho, è posho, 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 vi faccio l'ultima ragazzi, eh, tanto è vinta, oh non si sa, può essere, non lo sappiamo, non lo possiamo sapere, eh, però, lo sappiamo, è una specie di sapere, cioè, Mmm, 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 mmm Ma non è possibile Oh my god Bella partita Spero che questo video vi è piaciuto Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like Se non vi siete iscritti al canale Iscrivetevi Ci vediamo alla prossima Bella